Sarà un felice inizio di primavera per musica canto parola, sabato 23 marzo. Musica e cultura del patrimonio artistico si intrecceranno per un evento speciale, a partire dalle ore 18 presso il Teatro San Carlo. Il concerto serale, alle ore 20 e 30, ospiterà i talentuosi musicisti del Trio Chegalle. Definito un trio giovanissimo, ma già molto maturo nella ricerca di soluzioni interpretative e raffinate, il Trio Chegalle è stato fondato nel 2013 da Edoardo Grieco, Francesco Massimino e Lorenzo Nguen e si è distinto nel panorama musicale come il più giovane gruppo premiato al prestigioso premio Trio di Trieste. Il programma che proporranno i musicisti spazzerà dal romanticismo di Mendelssohn e Schumann all'atmosfera contemporanea di Domenico Turi. Alle ore 18, in occasione delle giornate FAI di primavera, la delegazione FAI di Modena si racconta con Vittorio Cavani, capo delegazione FAI, e Giulio Ferrari, presidente dell'associazione Via Vannelli. Interviste, proiezioni per ripercorrere la storia e celebrare questa 32esima edizione delle giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesagistico d'Italia. A seguire, aperitivo a buffet.